Ma dici a me? Senta, non faccio lo spiritoso, mi dia subito patente il libretto, dai! Eh, gliele do, ma non capisco di questo fermo. Ancora! Ma io c'avevo la cintura, stavo rispettando il codice, 50 km orari stavo andando. Guarda, lei forse non se ne rende conto, ma è evidente, è liscia. Ma se si riferisce alle donne lo cambiate ieri. No, mi riferisco alla sua testa, alla sua pelata. Ma lo sai che è pericoloso? Ma cos'è pericoloso? Per le macchine che le vengono incontro, no? Può abbagliare! No, che miau! Un mio amico di cognome portabalsamo, di sicuro non sarebbe un cognome datto a te. Ma dici a me? Gne gne gne. Allora, partiamo dal presupposto che Pomiro è il mio soprannome e non il mio cognome. Ma Pomiro è suddiviso in due parti. Da Pomì, una marca famosissima di pomodori pelati, e per camuffarlo ci abbiamo aggiunto Rò. Rò è l'iniziale del mio vero cognome. Che è rotundo. Quindi come dici tu, ad ognuno il cognome che sei da tre in più. Lo dico io, lo dici tu. Miau!